l'Ariatto Destinazione Puro Reso, episodio numero 108, benvenuti a questo nuovo momento in cui ci fermiamo e parliamo un pochino di Puro Reso, il wrestling giapponese che noi amiamo tanto, perché siamo qui per commentare insieme a voi oggi puntata abbastanza tranquilla in cui andiamo a vedere un po' di cose che riguardano New Japan Pro Wrestling e alcune cose che riguardano invece la Stardom. Entrambe saranno occupate in questo weekend a fare uno show condiviso, o questo o il prossimo, non mi ricordo esattamente, penso questo weekend, e quindi incroceranno le armi. Oggi non parleremo dell'incrocio, ne parleremo più avanti, intanto però vediamo come ci sono stagliate alcune cose. Io sono Stefano, una delle voci di l'Ariatto, uno dei presentatori qui sul lato vero del ring, contento di essere qua per parlare di Puro Reso, al mio fianco come sempre c'è Michi, ciao Michi, benvenuto. Ciao, grazie mille. Allora, siamo qua per, insomma, tirare un pochino le fila a due situazioni, due tornei in realtà. Uno che è praticamente concluso, nel senso che siamo arrivati a determinare i finalisti, l'altro invece che è assolutamente in corso e che ancora ci accompagnerà per un po' di tempo. Sto parlando del torneo per decretare il primo campione TV della New Japan e sto parlando della Tag League per quanto riguarda la Stardom. Ovviamente, prima di partire con queste due, dato che abbiamo una notizia, direi che si parte con il Murasaki Rono a me. Fabrici, scusa, ti ho veramente insultato tanto. Michi, qual è la notizia che abbiamo oggi? Allora, la NOAA, cioè in realtà due rappresentanti della NOAA stanno lavorando in America in alcune indie in questo periodo, queste settimane. Dovranno partecipare anche al King of Indies della West Coast, penso. Spero faccio fatica con tutti i nomi delle indie, però va bene. Comunque sono a San Francisco. E ieri hanno fatto dei try-out per capire se c'era qualcuno di quelle zone che potrebbe essere utile da portare anche in NOAA. Non sappiamo ancora poi quando e per quanto tempo, però dai try-out c'erano una trentina di persone dalle foto che hanno messo, ma lo fu già detto che un paio potrebbe essere interessante, potrebbero partecipare, penso comunque ormai l'anno prossimo, tempo che mette a posto tutto, comunque parteciperanno un paio di persone a qualche evento della NOAA. Mi fa piacere perché comunque i gaijin che hanno portato sono tutti abbastanza interessanti, hanno fatto tutti parecchio bene e non proprio tutti, tipo meglio del Dr. Wagner Junior non ha fatto così bene, però va bene, però ok, gli altri si sono comportati bene. Quindi vediamo, non hanno ancora detto i nomi, però se lui ha detto che vanno bene, diciamo che oltre a lui c'era una caggina, quindi sono due che comunque qualcosina probabilmente vedono, sanno. Qualcuno ha detto, quelli che resistono ai nostri corpi possono andare in NOAA. Eh sì, è molto probabile questo aspetto e sono contento anch'io, hanno sempre avuto buon occhio, quindi perché no, perché non continuare con questa cosa. Scusatemi, mi è andata ovviamente, mi è arrivato all'improvviso questo colpo di tosse, non ho potuto fermarlo, chiedo venia. Direi che ci addentriamo ora in quello che è stato un torneo abbastanza rapido, super seguibile perché è stato praticamente postato immediatamente su YouTube, e si è delineato con una finale molto interessante perché saranno i due finalisti, Zack Sabre Jr. e Ren Narita, finalisti di questo torneo, che in realtà è un po' particolare, nel senso che non è stato un torneo di primissime linee, i due più forti all'interno di questo torneo effettivamente sono in finale, poca sorpresa e sicuramente sono super interessato a vedere il match tra i due per decretare il campione. Vi dico subito, se mi avessero detto guarda che ci sarà un match tra i due, non ci sarà in palio niente se non la vittoria, io sarei stato comunque contento, quindi non è un valore aggiunto quello del titolo, ecco questa è la mia opinione. Miki cosa ne pensi dei due percorsi? Mi fa piacere sicuramente, diciamo che dalla parte di Zack Sabre era tutto più facile, nel senso che comunque già nelle prime fasi, comunque il pro match era contro Alex Sensen, non ricordo male, però era andato contro Finlay, aveva fatto un percorso diciamo più facile dove si sapeva, alla fine uno dei finalisti era lui, anche per dargli comunque qualcosa in più per il percorso che ha fatto nell'ultimo periodo, dove ha vinto poco ma ha fatto molto bene, quindi mandarlo in una finale poteva essere un modo per premiarlo. dall'altra parte mi ha sorpreso un po' Ren, perché si è comportato molto bene, noi siamo super fan di Ren Rita, però non me l'aspettavo così avanti, e avevo già paura del primo match, quando l'hanno mandato contro Ishi, perché Ishi sappiamo che alla fine è quello che in qualche modo lo buttano dentro, fa cose, non vince mai niente, però vabbè, alla fine è in tutti i tornei, in questo caso ho detto, magari gli fanno fare il match bello, interessante, però non lo fanno passare, è un match che è finito quasi al limite, il limite è di 15 minuti per il match di questo torneo, ma in realtà di questo titolo, e quindi è finito tipo a 14 e 30, una roba del genere, quindi molto al limite, e quello dopo è riuscito a svoltare, perché è nato contro Torugliano, e quindi ha fatto un match completamente diverso, ma è stato comunque bravo, e poi avere la semifinale alla contro Sanada, che siccome è stato il miglior match del torneo al momento, anche Sanada è un altro di quelli che merita tantissimo, e ha preso tipo niente, l'unica volta che ha portato a dargli un titolo, che era quello degli Stati Uniti, si è rotto, e quindi ha dovuto mollarlo, Will Osprey lo ha rotto, e quindi ha dovuto mollare il titolo, e poi sta cosa di Will Osprey, che ogni 3x2 infortunava qualcuno in quel periodo, è vera, quindi ok, a me piace, questo finale mi piace molto, e posso anche fare una, così, una piccola digressione, però secondo me interessante, Zack Sabre Jr., match da 5 minuti con Shibata, nel ritorno sul ring di Shibata, match di esibizione di 5 minuti, Shibata ha finito questo match, ha bumpato sul ring più volte, dicendo io sono pronto per tornare, Renna Rita, che è l'erede naturale di Shibata, Shibata ha lottato un match vero, contro Shibata, il 4 gennaio dell'anno scorso, che bello vedere adesso uno contro l'altro, per una cintura, vi pronostico già la mia idea, dovrebbe vincere Zack Sabre Jr., questa è la mia idea, perché Renna Rita è giovane a tempo, Zack Sabre però, è uno di quelli che ha meritato nel tempo, di vincere qualcosa, seppure stiamo parlando di una cintura minore, credo sia molto adatta a lui, dall'altro lato, ok ragazzi, se vincere Renna Rita, è probabilmente il mio giovane preferito, della New Japan, da tanto tempo a questa parte, quindi sarei molto contento, molto contento, tu dai, pronostica anche tu, no anche io, penso alla vittoria comunque di Zack Sabre, anche se, comunque sono molto contento per Renna Rita, perché arrivare fino in finale, dopo comunque diverso tempo, che non lotto in Giappone, dal che ha fatto il match contro Shibata, ma di base lui, è stato negli Stati Uniti, in un sacco di tempo, Stati Uniti, Inghilterra, ha girato molto la parte fuori dal Giappone, e quindi, mi fa piacere che quando è tornato, gli hanno comunque già dato, un po' di peso, un po' di rispetto, cosa che in realtà, molte volte i giovani fanno fatica, anche dopo aver fatto i tour all'estero, quando tornano in Giappone, ci mettono comunque del tempo, a prendere un po' di mestichezza, lui invece è entrato subito spedito, lanciato, mi farebbe piacere vedere in realtà Shibata, nel main event, magari a fine match, che fa qualcosa con i due, Shibata è tornato subito in Grazia, loro due in realtà, quindi... Esatto, 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 la storia del muore che va avanti, no, io vi dico, poi dopo scattiamo su altro, però, vi dico che, Renna Rita, si è dimostrato, capace, concentrato, forte, a Strong, in tour all'estero, cioè si vede che questo è nato per fare questo mestiere, poche balle, quindi credo che una parte di rispetto se la sia conquistata per quello, non dimentichiamo, che se tu sei il figlioccio di Shibata, non sei l'ultimo degli stronzi. E comunque lui si è già guadagnato un match per Wester Kingdom, perché alla fine sarà Wester Kingdom, quindi... Ed è il secondo match consecutivo all'estero Kingdom, esatto, non è proprio una merda come cosa. Certo, certo, bene così, bene così. Andiamo adesso invece a vedere com'è la situazione so far della Goddesses of Stardom. Vediamo la situazione fino al 12-11. Faccio un piccolo preambolo, non più di 30 secondi, Tag League della Stardom che parte un po' in sordina da un punto di vista mediatico, come quasi sempre la Tag League della Stardom da quando seguiamo noi con attenzione, però ovviamente nasconde delle hidden gems non indifferenti, buoni match, buone performance. Ha qualche problema quest'anno il fatto che ci sono molte coppie che in realtà non hanno grossissime speranze o comunque sono già ingaggiate in altre faide. Ha un altro piccolo problema che come per il Five Star si è deciso di lanciare qualcuno forte, qualcuno che poi dovrà rallentare. E questo sarà un problema perché comunque mi ha fatto due tornei simili. ma io direi Mickey D ti sto continuando a chiamare Fabri, c'è un problema gigante qua, Fabri non c'è più all'Ariatto, adesso lui è messicano, ha cambiato nazionalità. Perché non c'è più da un sacco di tempo in realtà. Esatto, esatto, però io avendo appena registrato anche Late Friday, avevo Fabri lì fino a due secondi fa, probabilmente se avessimo registrato prima questo e poi Late Friday avrei chiamato Michi Fabrizio, quindi insomma ci siamo capiti, sono proprio io che sono svampito. Si fa sentire, il peso dei miei anni si fa sentire. Situazione della parte rossa, situazione della parte rossa vediamo un po'. Allora, Giulia e Tecora, eccole qua, due che sono partite forti, hanno sei punti, se non sbaglio su tre match fatti. Cioè hanno fatto il filotto completo, pieno? Pensi di sì. Ecco, no, hanno pareggiato, no, hanno pareggiato, no, perché sarebbe un punto, vabbè, comunque la bella mafia, Giulia e Tecla, stanno facendo molto molto bene e come sempre questo far molto molto bene spinge in una direzione molto precisa, cioè tra poco cominceranno a perdere tutto. Utami e Saia vanno forte sempre perché Saia deve essere pushata dappertutto. Utami è fantastica ma non se ne sono ancora accorti, hanno quattro punti, Shuri e Tomo Kainaba ne hanno tre, le campionesse ne hanno due, come Fuki, Gandete e Saki Kashima, come Mario, Iwatani e Momokogo, un punto per Starlight Kid e Momo Watanabe che hanno fatto proprio il pareggio con Shuri e Tomo Kainaba e zero punti per la coppia che scoppia. C'era l'anno scorso, c'è quest'anno, Lady Sia, Mai Sakurai, due ragazze di due stable diverse stanno facendo gran fatica a confrontarsi, parlarsi e trovare strategie. hanno solo il nome bello, il nome che hanno scelto è carino, poi basta, che è Mai Fair Lady. Sì, sì, scritto Mai come Mai Sakurai. Sì, è l'unica roba del cinema. Esatto. Miki, che cosa ti sta piacendo e che cosa ti sta deludendo? Allora, è ancora difficile in realtà inquadrare la Tag League, io faccio sempre un po' fatica in realtà con la Tag League della Stardom, perché è molto alti e bassi e anche il fatto di dividere comunque due match in uno show, tre in un altro, è sempre molto incasinato per seguire e ricordarsi le classifiche. Infatti, sono dovuto andare a vedere perché non è che mi ricordavo chi è che aveva vinto, chi è che aveva perso e Giulia e Tecla stanno lavorando bene, quello sì, però come tutti quelli che partono lanciati per un certo punto ti fermi perché non si è mai visto uno che parte lanciato e vince il torneo, soprattutto se hai Giulia che deve fare comunque già qualcos'altro, che deve andare per il titolo di Shuri. Tecla è appena tornata, ok, sta facendo bene, però lanciarlo subito per un titolo avrebbe poco senso, quindi ok. Utami e Saiya, sì, va bene, in realtà potrebbero anche funzionare come vincitrici del torneo perché sono lì da tre anni e penso non abbiano mai vinto il torneo in questi tre anni, penso, mi ricordo, ok. Non sono neanche mai state campionesse loro. esatto, quindi potrebbe in realtà essere una delle papabili coppie vincitrici del Tag League e mi sta deludendo un po' come stanno trattando Starlet e De Momo al momento. D'accordo, sì. Perché comunque sono state campionesse da poco, sono campionesse trios, stanno lavorando bene insieme, stanno facendo redota, quindi quelle che magari appunto durante l'ingresso delle avversarie entrano alle picchie, la solita cosa un po' da Hill che si è sempre vista. Però alla fine loro funzionano come coppia e stanno lavorando bene. L'hanno fatta pareggiare contro una coppia formata da tipo tre minuti con una ragazza che è brava quanto vuoi, ma è appena arrivata e quindi se mi fai vedere che Tomo Kei Nao può pareggiare contro Starlet e De Momo e Watanabe c'è qualche problema nella mia testa, però vabbè. e poi gli altri si stanno facendo il loro, c'è la coppia Mayu Watan e Momoko che non è che potrà fare moltissimo, perché l'hanno messa perché Momoko era da sola, gli hai messo vicino Mayu Watan e quindi sembra molto più brava, funziona tutto di più, grazie a Mario e una Momoko però vabbè. Sì, 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 sì. Anche io sono molto deluso da come stanno trattando Starlight e Watanabe sono abbastanza scontento per il trattamento riservato del DC mi piace molto Tomo Kei Nao ma non mi piace Shuri mi stufa Shuri non c'è niente a fare so che fai bei match ma mi stufa quando una mi stufa quando mi cade da cavallo farla risalire è impossibile diciamo che tra le prime tre due sono da escludere come vincitrici Giulia Tecla Shuri Tomo Kei Nao vediamo se riusciranno le altre a risalire nella parte red e ad andare a scalzare chi sta davanti dando una una rapida un rapido conteggio sono sette match per ogni coppia quindi c'è ancora tempo tipo Giulia Tecla possono ancora essere scalzate senza grossi problemi anzi la classifica è ancora molto corta diciamo si però ce le vedo molto deboli come coppie quelle diciamo delle le ultime quattro si 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 perché boh però se Tam Nalkan e Natsupoi sono le campionesse non possono vincere credo questa parte andrà a Utami Saia sapete già come la penso io Saia potrebbe perdere il titolo nella white belt a breve potrebbe andare a vincere subito il titolo di coppia perché tanto a lei stanno stendendo il tappeto rosso davanti tutte le volte parte del tappeto rosso che le stanno stendendo è fatto con il sangue di Mina Shirakawa e lo dico e mi fa incazzare la cosa quindi vaffanculo Saia Camitani Michi passerai la parte blu io a questo punto si lo dico alla regia signora regia regia di cuori allora a punteggio pieno ci sono Natsuko Toro e Ruaka sei punti Maika Imeca quattro come Azuki e Kogma Mirai e Amisore tre punti Nanai Takashi e Yu tre punti Asumi Miua Yamazaki due punti come Saki e Wakazukiyama che entra sostituendo ovviamente la povera la povera Mina Shirakawa Anan Anan e Lida Saia zero punti che fastidio va bene allora Natsuko Toro e Ruaka ve lo dico sono la mia scelta come vincitrici della della bracket blu perché Natsuko Toro è appena tornata perché sta facendo in realtà molto bene in coppia sta veramente facendo molto bene la coppia sta funzionando molto bene come non funzionava un anno e mezzo fa quando erano in coppia prima che Natsuko Toro si facesse male quindi loro sono papabili vincitrici le altre papabili vincitrici di questo bracket sono ovviamente Nanai Takashi e Yu che vedete a metà classifica bassa anche perché hanno fatto credo solo due match e hanno fatto la vita era un pareggio quindi ci siamo ci siamo quella potrebbe essere la coppia che va a prendere Natsuko Toro e Ruaka ovvio il mio cuore dice Maika mia moglie e i Meika ovviamente sono fortissime in coppie sono super collaudate sono brave 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 anche per per tenere sotto Azuki e Koguma che comunque hanno già fatto diverse cose io insomma quelle lì sono le coppie che possono effettivamente fare qualcosa sono al 50-50 Natsuko Toro Ruaka Nanai Takashi e Yu credo che sarà il match tra quelle due coppie a farmi capire effettivamente chi vincerà spiace perché Maika e i Meika dovrebbero vincere i titoli di coppia lo dico candidamente dopo tutto il giobbare che hanno fatto per quest'anno e mezzo quasi due direi che sarebbe il caso tu Miki cosa dici di questa parte? secondo me Maika e i Meika invece giobbano ancora arrivano in finale e giobbano a Utami e Saia quindi questo bracket lo vedi vincere da Maika e Meika? sì 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 col fatto che hanno vinto anche il miglior match del del 5 star bla 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 le lanciano in finale non vincono non vinceranno mai niente loro poverine però vabbè e sì anche anche le altre Mazzucotoro Ruaka mi sembra un po' presto per mandarle subito in finale ci può stare però mi sembra presto Azuki e Koguma anche basta perché comunque hanno già fatto molto hanno già vinto due volte il titolo nel giro di poco tempo quindi se magari iniziamo a tirare un po' il freno è anche meglio Mirai Amishore hanno già sono giornate per il titolo tipo 72 volte nel giro di un mese quindi aspettiamo mi dispiace un sacco per Anan Anan aveva fatto molto bene il first star l'hanno messo in coppia con Saiya Ida e quindi non poteva fare niente quando nella mia testa Anan doveva andare con Mai Watani e aveva qualche chance in più se non è che vinceva però magari qualche soddisfazione se la toglieva in coppia con Mai Watani messa con Saiya Ida sì fanno la coppia che magari uno lo vincono sì però non non fa niente da lì sotto Saki Wakatsuki Yama e Anan Saiya Ida non si levano eh sì allora Saki e Wakatsuki Yama hanno quei due punti perché in realtà è la vittoria con Amina Shirakawa Wakka non vince si porta a casa due punti ma non li ha vinti a posto può vantarsi soltanto con le amichette che non guardano la strada ho due punti ho vinto un match basta mi dispiace anche per Asumi perché boh messa lì non lo so è vero che non è che in Queencast puoi fare moltissimo però Mio Masaki è arrivata troppo poco ok potenzialmente brava ma così mi blocchi Asumi che poteva fare qualcosina in più anche lei aveva fatto un turno in singolo molto bello che è arrivata a un soffio dalla finale tutta colpa di Saki Kashima che gli ha fatto uno schienamento nell'ultima giornata tipo in 30 secondi forse meno messa con Mio Masaki è un'altra di quelle che si due o tre match lì non lo so però rimane sempre a metà classifica poco più quindi siccome se la giocano Mike Heimek Nascottola Waka ma penso Mike Heimek non è da cash e Ju non penso le fine lo sono lì per fare cose fanno ancora qualcosa in Stardom in showcase ma poi basta la gente se ne dimentica non stanno neanche facendo così bene anche hanno una gimmick Bob non lo so con l'heel più più cattivo diciamo rispetto a all'oe dotai di turno non è takashi io invece continuo a rullare un sacco fortissimo mi dà fastidio io sono convinto che le abbiano dato qualcosa in più attenzione perché a Stardom in showcase che faranno loro saranno in coppia ma avranno un'altra Grim Reaper quindi c'è un'altra rivoluzione un exploding qualcosa un casket match exploding non lo so contro Queencast se non sbaglio come come vabbè comunque chi se ne frega di quello questa è un po' la situazione so far per quanto riguarda la goddesses of Stardom tutto quanto è stato caricato tutta questa roba qua tranquillamente sullo Stardom World quindi potete andare anzi c'è addirittura uno show in più che noi abbiamo iniziato a vedere ma non abbiamo ancora finito di vedere e sicuramente ci saranno cose interessanti da dire la prossima settimana cercheremo di eh fare quanto più possibile per vedere il pay per view condiviso tra Stardom e New Japan proviamo a vedere se riusciamo soprattutto se sarà possibile poi acquistarlo dopo la diretta eh perché sarà verosimilmente quello che potremo fare per la diretta non ci siamo e quindi quindi non spendo soldi prima comprandolo adesso e poi non so se dopo ce l'ho penso di sia però se sarà comunque possibile acquistarlo dopo la diretta verosimilmente noi lunedì martedì ce lo guardiamo e poi per venerdì cerchiamo di farvi avere la nostra review credo sia questo un po' il punto generale per quanto riguarda il resto sta andando avanti il torneo della DDT sono stati dei messi titolati no sappiamo che c'è della roba che teoricamente seguiamo ma che non stiamo trattando colpa mia che non riesco a vedere tutto perché ho altre cose da fare quindi non sto riuscendo a vedere tutto non è escluso che faccia un episodio magari solo micchi o io faccia semplicemente da supporto e faccia parlare solo lui perché comunque ci teniamo a darvi quanto più possibile la completezza di quello che stiamo vedendo almeno per la noa magari andiamo a recuperare stiamo continuando a seguire la got to move quindi sui nostri social di lariatto che trovate ovviamente sempre in descrizione potete andare a vedere ci sono tutti i link per il nostro sito per vedere come sta andando anche la la got to move per eventualmente cercare di recuperare qualcosa che potrebbe interessarvi è iniziata lo scorso weekend della nuova stagione quindi partite anche sul pulito più o meno quindi positivo positivo c'è il ritorno anche di mei suruga in questi giorni perché è stato in messico quindi dai un po' di cose interessanti ci sono un po' di cose interessanti ci saranno anche versante dell'elite per quanto riguarda il giappone perché questa notte ci sarà il match tra junakiyama e takeshita contro contro edy kingston e ortiz quindi giappone dappertutto quindi non mancate vi ringrazio di cuore per aver seguito questo episodio di lariatto un episodio un pochino breve ma molto intenso vi ringraziamo anche per tutte le volte in cui guardate e non dite niente commentate però i nostri episodi per cercare di darci una mano a capire anche dove possiamo migliorare cosa potrebbe esserci di più non chiedeteci di seguire più di così la new japan tanto non lo facciamo detto questo grazie micchi anche per insomma il tuo contributo il tuo supporto anche tecnico grazie per aver partecipato all'elriatto grazie a te è stato un piacere piacere tutto mio ragazzi miei ci risentiamo molto 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 che dico molto prestissimo con un nuovo episodio e intanto voi continuate a seguire ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 su youtube e su spotify il nostro un lariatto al giorno siamo più di 300 episodi seguiteci dai ce le sentiamo alla prossima